rapina in una banca ad ellera di corciano nella pomeriggio di venerdì bottino di 40.000 euro solo indagini della polizia per ricostruire l'episodio secondo quanto comunicato dalla questura di Perugia due uomini travisati avrebbero immobilizzato con delle fascette un cliente e sei dipendenti dell'istituto bancario poi costretti con l'utilizzo di un punteruolo ad entrare in una stanza dopo 45 minuti necessari per l'apertura della cassa a tempo è stato prelevato il denaro da parte dei malviventi che poi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce la polizia è stata contattata proprio dal cliente dipendenti della banca che erano stati vincolati dalle fascette sul posto del personale della squadra mobile quello della scientifica in arresto un 37 anni di origini albanesi a città della pieve l'intervento dei carabinieri nei confronti dell'uomo già noto le forze di polizia irregolare sul territorio nazionale si è preso a cedere cocaina ad un uomo della zona lo spacciatore è stato colto in fraganza di reato mentre cedeva lo stupefacente all'acquirente per una somma di 60 euro in contanti lo stesso ha cercato di sfuggire agli operanti per poi essere bloccato e perquisito nella sua abitazione sono stati trovati 50 grammi di cocaina e più di 4500 euro in contanti ritenuti in provento dell'attività di spaccio il 37enne è stato quindi tradotto nella casa circondareale di perugia capanne a disposizione dell'autorità giudiziaria giro di vite all'immigrazione irregolare da parte della polizia di stato di terni dal mese di ottobre sono stati espulsi dal territorio nazionale 13 stranieri irregolari il personale della terza sezione espulsioni ha eseguito i provvedimenti nei confronti di extracomunitari che non avendo un titolo di soggiorno dopo aver scontato una pena detentiva di due e anche tre anni sono stati accompagnati ai centri di permanenza e rimpatrio collocati in varie parti d'italia in particolare tre cittadini nordafricani espulsi per pericolosità sociale erano stati condannati per aver commesso una serie di reati gravi che andavano dai furti alle rapine lessioni personali e porto d'armi con danni che avevano appena finito di scontare negli istituti detentivi di terni e orvieto quando per loro si sono aperte le porte del carcere c'erano ad aspettarli gli agenti della questura di terni che li hanno presi in carico e li hanno accompagnati direttamente nei cpr da dove verranno riportati nei paesi di origine negli ultimi anni si è intensificato il rapporto tra il personale dell'immigrazione ternana e gli istituti detentivi della provincia effettuando in questo modo interventi sempre tempestivi ed efficaci sono infatti 126 in totale le espulsioni dall'inizio del 2023 la giunta regionale dell'umbria in una delibera nel ribadire il ruolo strategico che il nuovo ospedale santa maria di terni ha nell'ambito della rete sanitaria effettuato sulla base del quadro esigenziale fornito dall'azienda ospedaliera di terni una ricognizione delle risorse a disposizione attualmente della regione da destinare alla realizzazione della struttura e ha dato mandato agli uffici competenti di redigere il documento di fattibilità delle alternative progettuali in cui si evidenzino con particolare attenzione anche i relativi crono programma attuativi al fine di portare a compimento l'opera la cui stima dei costi complessiva è presuntivamente di 280 milioni di euro dalla ricognizione effettuata è emerso che l'ente regionale è in grado di riprogrammare circa 116,15 milioni di euro da destinare a tale scopo la giunta nell'atto programmatorio approvato confermando di avere già avviato interlocuzioni e richieste formali al ministero della salute finalizzate al reperimento di aggiuntive risorse dispone che gli uffici competenti valutino per la parte residua che ad oggi ammonta circa 163,5 milioni di euro tutte le ipotesi a cominciare dalle eventuali modalità di ulteriori partecipazioni della regione stessa al finanziamento nonché del ricorso alle risorse INAIL destinate all'edilizia sanitaria per l'intero ammontare dei costi inoltre la giunta rimane aperta all'eventuale ricorso a forme di partenariato pubblico e privato il nuovo ospedale di terne affermato la presidente donatera tesei ricopre un ruolo strategico nell'ambito della rete ospedaliera regionale e per i territori limitrofi e la sua realizzazione per noi una priorità sono 1640 il numero di vaccini anti covid somministrati in umbria all'otto novembre lo rende noto l'assessore alla salute della regione umbria luca coletto ricordando che andando verso la stagione fredda che vede la forte ripresa dell'attività sociale nei luoghi chiusi la vaccinazione in particolare per le categorie fragili e per gli over 65 rimane la migliore più efficace forma di protezione l'assessore ricorda che la regione ha stipulato un accordo di collaborazione operativa con i medici di medicina generale pediatri di libera scelta e con le farmacie proprio per garantire come cita la circolare ministeriale una maggiore offerta attiva della vaccinazione alle persone a rischio di sviluppare forme gravi della malattia contestualmente la vaccinazione anti covid è raccomandabile per le categorie a rischio anche la vaccinazione anti influenzale i flussi di popolazione che si spostano da dentro e fuori confini del messico e di altri paesi alla centro delle considerazioni della lezione magistrali si è tenuta davanti ad un'attenta patea di studenti dell'università pesanile di perugia da parte dell'ambasciatore del messico in italia carlos garzia de alba il messico in qualche modo il paese simbolo della migrazione ha detto di alba che nel corso della sua lezione ha tratteggiato le quattro direttrici migratorie che convivono nel paese più a sud dell'america del nord quella dei cittadini messicani che sono migrati all'estero quella di coloro che dall'estero sono andati a viverli quella di ritorno dopo una vita all'estero e quella della rotta trasfrontaliera con gli stati uniti la quale costituisce un fenomeno oggi di grandissima portata le cui dimensioni sono da tempo preoccupanti sia in senso quantitativo che soprattutto in ragione della perdita di vite umane sul fronte migratorio non ci possono essere posizioni eterne voi europei lo sapete bene parlate tanto su sugli accordi di dublino coloro che dicono ormai non è più valido altri dicono però finché non cambiamo le regole continuano ad essere valide lo stesso capita a noi non possiamo fermarci la migrazione una sfida globale non c'è un paese al mondo che in una maniera o nell'altra viva il fenomeno migratorio il messico senz'altro è un paese al centro dei flussi migratori perché siamo anche un paese di transito per tanti tanti migranti di tutti i continenti noi abbiamo migranti non solo di questi 11 paesi abbiamo anche tanti dell'africa dell'asia che attraversano dal sud america al centro america il messico cercando di arrivare negli stati uniti questa è la complessità specifica del messico la la geografia che ci mette proprio a fianco del paese che più in assoluto riceve migranti a livello mondiale venerdì 17 novembre sarà sciopero generale in umbria uno stop per l'intera giornata lavorativa in tutti i settori pubblici e privati per chiedere prima di tutto l'aumento dei salari divorati dall'inflazione cgl will hanno proclamato questa giornata di lotta che interesserà tutto il centro italia per contrastare la manovra finanziaria del governo meloni che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici e lavoratori lo sciopero un sacrificio importante ma è anche l'unico strumento nelle mani di chi lavora per chiamare il governo e anche le imprese alle loro responsabilità affermano in una nota i segretari generali di cgl will dell'umbria maria rita paggio maurizio molinari siamo di fronte a una crisi del potere d'acquisto di salari e pensioni senza precedenti l'italia il paese che ha registrato il calo dei salari reali più forte tra le principali economie mondiali un crollo del 7 5 per cento rispetto al periodo precedente la pandemia in questo quadro continuano i due segretari generali l'umbria è messa ancora peggio avendo salari nettamente inferiori alla media nazionale ma tassi di inflazione tra i più elevati d'italia in effetti secondo i recentissimi dati elaborati dalla cga di mestre la retribuzione media in umbria si attesta poco al di sopra dei 19.300 euro lordi l'anno ovvero circa 2.500 euro in meno rispetto alla media nazionale ma nella legge finanziaria del governo meloni non c'è alcuna risposta all'emergenza salariale concludono paggio e molinari hanno annunciato 100 euro in più nelle buste paga ma in realtà è solo la conferma di quello che c'era già mentre l'inflazione causata da profitti e specurazione ha falcidiato gli stipendi in media del 17 per cento allo stesso modo il governo ha detto di voler rilanciare la contrattazione collettiva ma non stanza le risorse necessarie a rinnovare i contratti del pubblico impiego e a sostenere e detassare i rinnovi nei settori insomma per cg le will è giunta l'ora di far sentire la voce del mondo del lavoro lo sciopero generale sarà accompagnato da una manifestazione regionale in piazza 4 novembre a perugia con inizio alle ore 10 importante novità da aeroporto internazionale dell'umbria di perugia ryanair ha annunciato infatti nella giornata di mercoledì il nuovo operativo su perugia per l'inverno 2023 con quattro rotte inclusa cagliari che diventa un volo annuale con una previsione di oltre 430 mila passeggiari attesi nell'anno fiscale 2024 con un aumento del 44 per cento rispetto all'anno precedente ryanair sostiene oltre 200 posti di lavoro altamente retribuiti nel settore dell'aviazione apportando valore all'economia locale al settore del turismo umbro l'operativo invernale 2023 su perugia offrirà quattro rotte per catania palermo londra e cagliari si svolta venerdì all'aeroporto san francesco d'assisi la conferenza stampa di presentazioni del corso di cultura aeronautica che il corpo dell'aeronautica militare sta svolgendo con gli studenti e le studentesse di perugia e che terminerà alla sala dei notari il prossimo 16 novembre erano presenti all'incontro l'assessore della sicurezza e protezione civile del comune di perugia duca merli la sindaca del comune di assisi e presidente della provincia stefania proietti per ricordare i cento anni della nascita dell'arma azzurra il corso su base volontaria a titolo gratuito coinvolto circa 150 studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno aderito all'iniziativa e che parteciperanno ad uno stas presso il sessantesimo stormo di guidonia grazie all'aeronautica militare i nostri giovani ricordato l'assessore merli come di perugia hanno un'occasione per scoprire il mondo del volo e sperimentare emozioni uniche di una realtà che richiede grande impegno competenza e passione ci sono più vantaggi in questo tipo di corsi intanto uscire dalla scuola e toccare con mano in pochissimo tempo quello che si appena studiate perché quello che studiamo vediamo con i ragazzi nei primi tre giorni di questo corso dopo pochissimi giorni diventa un'applicazione pratica e anche questa vicinanza tra lo studio e la pratica è una cosa unica che questo corso offre l'altro vantaggio è che uscendo dalla propria scuola si incontrano ragazzi delle altre scuole della propria città e si creano inevitabilmente legami nuovi accomunati da una sola passione che quella per il volo grazie a tutti 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 Politeama di Terni, di Terni Film Festival, l'edizione 2023, con la presenza di Abel Ferrara. Partenza con il film documentario che racconta la storia della prima araba a vincere Master Chef in Israele, di come attraverso il cibo possa passare la pace. Tema caldissimo in questi giorni di guerra. Tra i protagonisti, anche i registi israeliani e palestinesi, che si incontreranno sul palco del festival per lanciare segnali di speranza. In arrivo il terzo fine settimana della 26esima edizione di Frantoi Aperti in Umbria, l'ormai celebre manifestazione organizzata dall'Associazione Strada dell'Olio Evo Dopo Umbria, in collaborazione con la regione e tutti gli attori del comparto Olivicolo Umbro, che fino al 26 novembre celebrerà l'arrivo dell'olio nuovo extravergine d'oliva in tutta l'Umbria. Sabato 11 e domenica 12 novembre, ad accogli e rivisitatori saranno assisi, con unto nei castelli e nel territorio, bettona, con bettona produce eccellenze, olio extravergine e non solo, campello sul clitunno con la festa dei frantoi e dei castelli, che animerà il castello di Acera domenica 12 novembre, e ancora Castello Ritaldi con il paese delle fiabe, dove è in programma franto tipico, mentre a Magione si terrà olivagando. Già da venerdì sera 10 novembre sarà possibile partecipare alle cene oleocentriche degli Umbra Evo Ambassador, testimoni di oli unici, che proporranno menu di terra e lago in abbinamento con gli oli Evo di qualità dei produttori aderenti a Frantoi Aperti 2023. Due saranno invece gli appuntamenti con Chiave Umbra 2023, sperimentazioni artistiche nel paesaggio olivato, momenti in cui gli artisti proporranno i loro interventi lungo i tragitti di altrettanti trekking. Sabato 11 novembre con l'artista Jessica Moroni a Bettona e domenica 12 novembre con l'artista Alero a Castiglione del Lago. Due infine gli appuntamenti con assaggi di storie, degustazioni di oli e di prodotti unici. Sabato 11 novembre a Bettona, presso il Centro Agroalimentare San Crispolto alle 16, mentre domenica 12 novembre gli assaggi si terranno a Campello sul Clitunno. Inaugurata la nuova sede del Centro Studi Americanistici Circolo Amerindiano, ubicata in via Fratti, ex officine Fratti, l'apertura segna l'inizio di una nuova fase nel percorso dell'associazione che dal 1977 svolge un ruolo fondamentale nella promozione e nella diffusione delle culture delle Americhe a Perugia. Dato in concessione dal Comune di Perugia, il nuovo spazio fornirà una base operativa idonea alle attività del Centro Studi che ospita al suo interno anche la biblioteca specializzata in americanistica Tulio Seppilli, parte integrante del circuito delle Biblioteche Comunali di Perugia e del polo regionale Umbria 1, vantando un patrimonio di circa 40.000 volumi. Insieme alla biblioteca fanno parte del patrimonio documentario raccolto sotto la sigla CEDO RICA, il Centro Documentazione Audio Video Daniele Fava, centinaia di migliaia di foto, video e documenti vari e la collezione etnografica sulle Americhe Gerardo Bamonte, che vanta oltre 2.000 pezzi. Contestualmente all'inaugurazione è stata aperta la mostra in trecci con oggetti e artefatti provenienti dal patrimonio museale del Xhaka, che dagli Inuit ai popoli del cono sud passando per quelli amazzonici ripercorre gli intrecci di forme, materiali e identità dell'intero continente americano. Sarà possibile inoltre visitare anche l'altare dei morti allestito in occasione del Día de los Muertos, oggetto simbolo attorno a cui ruota la celebrazione in Messico, e la collezione permanente del Museo Etnografico del Xhaka. Con questa soluzione allochiamo uno dei beni culturali preziosi della nostra città, il Circolo Amerindiano, con la sua preziosa collezione libraria, con la libreria che entrerà nel nostro circuito comunale e con la sua componente museale. Siamo riusciti ad incrociare e a sovrapporre due esigenze, quella di uno spazio che si era liberato con quella di una ricchezza che invece aveva difficoltà ad intercettare un grande pubblico al di fuori dell'annuale appuntamento internazionale. Oggi invece questo spazio sarà fruibile a tutti, perugini e nonna, studiosi e curiosi, sia nella componente bibliotecaria che accresce il nostro sistema comunale, sia nella componente museale. Dopo oltre un anno di lavori, il Parco Itaca è finalmente in realtà. Lunedì scorso si è tenuto l'evento di presentazione, con taglio del nastro, ingresso, visita al Parco e brindisi inaugurale del nuovo giardino pubblico ad Agello, frazione del Comune di Magione. Un parco di circa 7.000 metri quadri, con tre aree riqualificate, giardino pubblico con fontana, anfiteatro e giochi per bambini, percorso verde di un chilometro e mezzo, lavori di decoro urbano che interessano anche parcheggi e di illuminazione. All'inaugurazione sono intervenute anche le istituzioni, alla presenza tra gli altri del sindaco di Magione Giacomo Chiodini, dell'assessore del confinante Comune di Perugia Gabriele Giottoli. Presenti naturalmente i fondatori del progetto, di Centumbrie, l'azienda voluta dalla famiglia Cinaglia continua la sua azione di riqualificazione urbana e di sostenibilità, offrendo così al territorio un parco che da ora sarà aperto alla comunità locale, non solo. La nostra partita è una partita dove abbiamo lasciato a casa diversi giocatori per farli recuperare, dove abbiamo portato tanti giovani e sono soddisfatto della prestazione che hanno fatto. Abbiamo visto che Suare 2004, centrale difensivo, può far parte di questa squadra, abbiamo messo dentro Lomangino 2006 attaccante, abbiamo fatto giocare giunti a centrocampo, ho fatto giocare un tempo i annoni perché non l'avevo fatto giocare domenica, secondo me i terzini hanno fatto bene, la squadra ha fatto prestazione, ha preso gol nel primo tiro in porta che ci hanno fatto dopo dieci minuti che eravamo lì e cercavamo di far gol, i ragazzi hanno continuato a lavorare come gli ho chiesto, la partita l'abbiamo gestita noi e il Rimini ci ha attaccato in ripartenza, però io sono soddisfatto della prova dei ragazzi, c'era ammarico, non mi piace perdere a carte neanche con mio padre, c'era ammarico per essere uscito dalla Coppa Italia, però della squadra che abbiamo messo in campo stasera sono soddisfatto. Porte rigorosamente chiuse, Roberto Breda non fa mistero che per la gara di La Spezia in programma domenica alle 16.15 potrebbe avere un certo peso specifico, il fattore sorpresa in alcune scelte, soprattutto in questa prima settimana, ha affermato il tecnico Rosso Verde durante la presentazione, se possa avere un minuscolo vantaggio cercherò di tenerlo, sono curioso di vedere questi giorni come viene interpretata l'idea di partenza che ho. Si può dunque dedurre che Breda sta valutando se confermare per ora l'assetto adottato da Lucarelli, seppure con alcuni accorgimenti e qualche novità nell'epedina, andando poi a sfruttare la sosta per sperimentare e provare un nuovo modulo. Qualora optasse per novità di rilievo fin dalla partita del picco, una di queste potrebbe essere la difesa a quattro, magari con il contemporaneo impiego di Capuane Sorensen. Un'altra all'immediato conferimento a Falletti del ruolo di trequartista. E' da vedere poi anche se il tecnico lancerà Viviani dal primo minuto. Breda intanto ha fatto allenare i suoi dentro e liberati, lo spezia e reduce dallo 0 a 0 nel recupero di Lecco, quinto pareggio nelle ultime sei gare, inclusa quella di Sassuolo in Coppa Italia nei tempi regolamentari, e per Albini potrebbe essere decisiva proprio la sfida con la Ternana. I biglietti per il settore ospiti del picco sono disponibili su www.vivaticket.com, in e-point dello stesso circuito al costo di 12 euro a cui vanno aggiunti i diritti. La prevendita terminerà alle 19 di domani. Prosegue il conto alla rovescia verso la gara di domenica in trasferta al Curi. Braglia insieme allo staff tecnico continua a lavorare sul campo anche per capire le condizioni dei giocatori rosso-blu. Su tutti il polpaccio destro di Signorini, seguito con particolare attenzione, il capitano del Gubbi ha sentito tirare intorno al settantesimo nel match contro il Cesena, è stato sostituito dopo nove minuti per evitare ulteriori complicazioni. Lo staff medico sta lavorando e monitorando la situazione per fornire indicazioni più precise. In difesa comunque torna Portanova dopo la squalifica con Braglia che potrebbe anche confermare classe 2002 Tozzuolo, ex di turno. Ottima prestazione la sua contro il Cesena, ma anche Erachierico per squalifica. Sono sempre da valutare le condizioni di spina, apparso molto stanco nelle recenti uscite stagionali. È difficile però che Braglia rinuncia a un elemento così importante in attacco. Capitolo tifosi, le prevendite per il settore ospite del Curi sono in vendita dalle 16 di mercoledì e dato che da dieci anni i sostenitori rosso-blu non assistono al derby con il Perugia, si tratta di un'occasione che gli ogubini probabilmente non si lasceranno sfuggire. Tutti rimarcano l'importanza del sostegno dei tifosi rosso-blu nei confronti della squadra, che anche e soprattutto in partite come queste può farsi sentire. C'è anche un altro dato che spinge il rosso-blu. Il Gubbio non ha mai vinto al Curi e nell'ambiente rosso-blu c'è voglia di fare la storia. Doppio allenamento sia fisico sia tecnico mattina e pomeriggio ieri per i Block Davids al Palabarton. Agli ordini di coach Lorenzetti e del suo staff stanno proseguendo con il lavoro mirato al prossimo incontro in programma. Il rientro con una Supercoppa in più al Palabarton dopo tre settimane, domenica contro la Valsa Group Modena per un'altra classicissima della Superlega. È infatti il 46esimo confronto tra le due società. Una storia cominciata il 18 novembre del 2022, fatta di grandi match spesso importanti, di sfide tirate e spettacolari, di grandissimi campioni da ambo le parti, capaci di infiammare le platee. Domenica Perugia e Modena scenderanno in campo decise entrambe a tornare al successo in campionato. I Block Davids sono infatti reduci dalla sconfitta arrivata solo al Tybrek a Civitanova. I gialloblu vengono dal KO casalingo in tre set contro Monza. Sarà una sfida particolare anche in panchina, dove di fronte si troveranno Angelo Lorenzetti e Francesco Petrella che nelle ultime sette stagioni hanno condiviso ogni giorno uno al fianco dell'altro, con Petrella vice di Lorenzetti un anno proprio a Modena e poi sei anni a Trento. A Perugia si presenta una balsa group piuttosto diversa rispetto alle ultime stagioni. Detto del cambio nello staff tecnico, anche in campo i gialloblu presentano diverse novità, unite però ad alcuni punti fermi, uno tra tutti in cabina di regia, dove a dirigere le operazioni ci sono sempre l'esperienza, la classe e la sagacità tattica del fenomeno brasiliano Bruno, capitano del gruppo. Secondo me è una partita, a prescindere di quello che vuol dire giocare con Modena, è una partita di un percorso che stiamo facendo, di tanto lavoro, di tanto allenamento, adesso abbiamo magari un po' di stacco con questa settimana pulita, senza partite, però ci dobbiamo aspettare, secondo me, una come questa, perché è una squadra buona che sicuramente vogliono fare vittorie, quindi la approcciamo della maniera come lo stiamo facendo con le altre.